Ciao, sono Bozzuona Kid, un ninja della prefettura di Okinawa. Il fiume a visi oggi è in piena e come il torrente va verso un fiume, io mi dirigerò verso Canova. Ho saputo di una cosa chiamata magma, che ha lasciato il segno sulla periferia nord di Trento. Seguitemi nel mio viaggio. Se si fa un bel sorriso quando ci si saluta per strada, si può vivere bene anche nella giurla di Cerenita. Se si fa un bel sorriso quando ci si saluta per strada, si può vivere bene anche nella giurla di Cerenita. Ciao. Ciao. Ehi, intravedo una ragazza laggiù sotto quel muro colorato. Questo palazzo è diverso da tutti gli altri. Dimmi ragazza, dove ci troviamo? Questa è la sede di Alchemica, o serra o bunker. Ci fanno delle cose culturali e artistiche. Mostre, gite esperienziali, talk, laboratori e anche street art. Sta qui dal 2017. L'ultima cosa che hanno organizzato è stata il Giardino dell'Aria Alpi. Ci sei stato? L'ultima cosa che hanno organizzato il Giardino dell'Aria Alpi. Liardino dell'Aria Alpi. Grazie a tutti. 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 a tutti.